Raga, ce l'avete chiesto in tantissimi! Finalmente possiamo dirvi che... Ma ancora con questo? Ce l'avete chiesto in tantissimi! Dai raga, ormai lo dicono tutti, un po' di originalità! Scusami, sei in vena di drama oggi? Già sono nervosa che le vacanze stanno per finire e... Raga, ma seriamente? Abbiamo un importantissimo annuncio da fare! Guardate cosa è appena arrivato! Le nuove cover di Webbo in collab con la casa della Scarcasas! Queste sono le mie due preferite, questa che ha 100% l'estetica di Webbo come fosse piena di adesivi e questa la classica con tutti i loghi! Ma perché vogliamo parlare di queste due? Meno stress più drama è la mia bio e 100% baby il mio mood totale! E poi c'è questa trasparente, pazzesca! Potete personalizzarla con la vostra foto preferita! Le cover di Webbo e la casa della Scarcasas le potete acquistare online e nei negozi della casa della Scarcasas sparsi in tutta Italia! Ce ne sono più di 150, quindi uno vicino casa vostra lo trovate sicuro! E se nel vostro negozio non sono disponibili, potete ordinarle direttamente dal tablet che trovate il negozio! È facilissimo! Dai però, degli stickers volevo parlarne io! Ah basta, ci rinuncio! Io torno in redazione! Buone!